queste foto sono mie e sono davvero importanti per me ho bisogno di capire perché le hai prese me lo vuoi dire ti prego ho bisogno che tu me lo dica perché tu l'ami così tanto è la verità ma questo non cambia di una virgola quello che sento per te neanche una virgola il signor lefcovice non è sicuro che sia una buona idea che tu stia qui quindi dobbiamo farlo contento allora quando sei a casa è ok che tu venga da Marte ma quando sei là fuori insieme agli altri terrestri devi rispettare le regole della terra però ricordati una cosa ricordati che mai 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 dobbiamo arrenderci lo diceva Winston Churchill mi sembra è un'altra cosa è davvero importante per favore mi insegna a fare quella mossa per disintegrare ma come fai lo capirai